cari amici collezionisti del canale nice coins numismatica benvenuti vi presento il video numero 60 10 franchi decimo anniversario mariage ranieri greschelli la moneta presentata a un diametro di 37 mm un peso di 25 grammi e uno spessore di 3 mm anno 1966 paese monaco zecca monnette pari materiale argento 900 contorno rigato assi alla francese esemplari coniati 24.000 rarità r qualità spl sup e f v z nel diritto della moneta troviamo raffigurati il principe ranieri di terzo di monaco e la principessa gres volti verso sinistra con subito a destra le iniziale dell'incisore g s g simon lungo il contorno è impressa la scritta circolare gres re nietro a de monaco mentre in basso è posto il millesimo di conio nel rovescio troviamo raffigurato lo stemma coronato del principato di monaco con ai lati l'indicazione del valore 10 franchi ripetuta sia a destra che a sinistra in alto è posta la scritta d'arco desieme anniversaire mariage mentre in basso si notano i simboli del direttore della zecca e dell'incisore capo la moneta può essere classificata in grado spl nel sistema italiano la moneta circolato ma non non presenta usura nella moneta si può osservare il danno che creano quelli che si cimentano nella pulitura di una moneta in quanto risulta evidente la graffiatura delle superfici della stessa moneta le monete non vanno lucitate o pulite da inesperti in quanto ne deprezza il valore e la loro estetica è un lavoro di esperti di restauro delle monete meglio una moneta naturale con patina che una brillante ripulita questa moneta di 10 franchi in argento commemora il principe ranieri terzo di monaco e grace kelly favola senza liete fine del suo grande amore per la kelly l'attrice americana rinunciò a tutto per amore il principe ranieri era l'erede della famiglia monegasca nonché lo scapolo più ambito d'europa lei era una grande star di hollywood di rara bellezza si conoscono sulla croissette e si innamorano le famiglie non approvano la relazione soprattutto il padre di grace ma in un non meno di un anno convolano a nozze in un matrimonio che fa sognare una generazione intera l'abito da sposa di lui è quello che farà sognare tante donne tra cui tante spose reali e non in tantissime si sono ispirate per le proprie nozze al suo preziosissimo ed elegante abito da sposa dalla loro unione nascono tre figli carolina alberto e stefanino la loro è una storia d'amore che si conclude in tragedia quando la principessa perde la vita il 14 settembre 1982 da ricordare che il 31 maggio 2023 ricorre il centenario della nascita del principe ranieri nato nel 1923 rené-lui henri maxence bertrand de grimaldi era l'unico figlio del conte pierre de polignac e di sua moglie la principessa charlotte di monaco si ritrova principe regnante del principato dopo la morte del nonno luigi secondo nel 1949 perché sua madre cinque anni prima aveva rinunciato al titolo di principessa ereditaria infine chiudo il video augurandovi buona visione e se lo ritenete un like ed iscrizione al canale nice coins non mi smatica grazie a tutti 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 grazie a tutti